Ciao a tutti, sono Sebastiano di Libri Finti Clandestini, un progetto sperimentale editoriale basato sul riciclo e riuso di scarti cartacei provenienti da cartiere, tipografie, laboratori di stampa. Ci saranno due laboratori sulla creazione di una concertina cilena che ha un tipo particolare di libro la cui caratteristica è quella di presentarsi come un normale libro da chiuso, mentre una volta aperto appare come uno strano zig zag di pieghe. Il concetto di carta è fortemente legato al progetto Libri Finti Clandestini perché chiaramente è l'essenza stessa del progetto, però una cosa fondamentale è quella di collegare al concetto di carta un altro concetto che è quello di riciclo, di riuso, quindi legato alla sostenibilità. Un messaggio che mi piacerebbe lanciare a qualsiasi tipo di persona che si avvicina all'attività di legatoria, illustrazione, disegno è quella secondo me di sperimentare, non fermarsi alle regole che esistono già o perlomeno conoscendole cercare di rompere le regole un po', sperimentare senza fursi limiti.